Siamo con il mister Domenico Toscano al termine di Ferralpisalò-Fermana 0-0. Peccato perché c'erano i presupposti per vincere una partita, avete creato tanto anche quest'oggi, soprattutto nel secondo tempo, dove la Ferralpisalò sostanzialmente non ha creato occasioni. La Ferralpisalò ne ha creato molte e non ha trovato il gol. Sì, il ramaric è quello, perché i ragazzi meritavano di portare a casa la vittoria per quello che hanno fatto, soprattutto nel secondo tempo, anche se nel primo tempo abbiamo creato due o tre situazioni che potevamo sfruttare meglio. È normale che se sblocchi la partita, la partita diventa un'altra. La Ferralpisalò deve fare un'altra partita. Non siamo riusciti e fino alla fine abbiamo cercato di portarla a casa. Peccato per non aver portato a casa i tre punti, però c'è stato un leggero miglioramento rispetto alla partita di Monza. Aspettiamo di poter ottenere la prima vittoria, perché i ragazzi stanno lavorando e si meriterebbero la vittoria in questo momento. L'obiettivo è quindi rivolto alla partita con il Vicenza, che sarà in posticipo lunedì 1 ottobre? Assolutamente. Analizzeremo questa partita come facciamo tutte le volte. Cercheremo di prendere gli aspetti positivi, cosa non abbiamo fatto bene e che possiamo migliorare. Ci prepariamo per la partita di lunedì con il Vicenza, perché ci aspetta una partita importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.